bravo quelli li nominano nemmeno forza ragazzi ma ti dico una cosa o parte ninja non so come un guerriero perché solo come più forte al mondo e di carità uno cascava per terra faccia di essere proprio il più forte al mondo è il più forte al mondo io sono il più forte uomo di tutti tanta stima per ninja ma che sei un altro io lo amo un guerriero ma dopo facciamo noi stiamo a pregare stiamo a prenderla via da roma perché no tempo non abbia io potevo andare via uguale intanto non mi fregava se poi mi insultava pianisci nel ninja pianisci nel ninja ha detto bene io sono contro la juve lui odia la juve poi di arrivare a cagliari quindi io arrivando al pianista lì ma che ormai c'è di roma una volta che stava a cagliari tante belle risposta a ninja mobile io odio la juve se potevo finire con cagliari avrei dato oppure le mie le mie accoglioni per vincere la partita perché io odio la juve quando stavo a cagliari io non ho mai perso alla juventus stadium con cagliari ah davvero questa ma no solo pareggiato col cagliari pure pensate ho visto hanno vinto solo scudetto quando abbiamo già da trieste juventus stadium mai perso e odio la juve perché hanno sempre vinto per un rigore mamma non lasse che ha deciso mamma non lasse che ha deciso io sono venuto alla roma perché voleva vincere qualcosa con noi vincere contro la juve che aveva sempre avuto queste e noi vinceremo qualcosa ninja finché stai con noi vinceremo qualcosa con quelle che spero tanto perché ancora se lo ricordamolo a noi c'è brucia o a noi c'è brucia siete figo dai a ninja dai e dopo tornare qua se abbiamo una cosa mai perso ma lui guarda che già è qualcuno hanno già qualcuno